Credo però che ci sia in Consiglio Comunale una serie di forze politiche che stanno lavorando bene da una parte e dall'altra. Credo ci sia molta passione per Firenze e l'ambizione è quella di farla più grande, di farla più bella, di riuscire a fare qualcosa per i fiorentini e per tutti coloro che vengono a Firenze. Si deve trasmettere questo messaggio che ci si può divertire e ci si può divertire senza quegli eccessi che normalmente avvengono. E questa bellissima iniziativa di Firenze fuori va in questa direzione, per cui bello, bravi anzi, perché è importante dare questione ai giovani, perché ci si deve divertire, perché la vita è anche gioia e divertimento, ma divertimento e gioia consapevole. Grazie